Euroregione News La medicina nel futuro a Future Forum La terza settimana di Future Forum si apre alle 16, oggi in Sala Valduga alla Camera di Commercio con l'incontro Il futuro della medicina fra molecole e cellule, con la presenza di Michele Morganti, ordinario di genetica all'Università di Udine, e Pietro Pietrini, ordinario di biochimica clinica e biologia molecolare all'Università di Pisa. Al centro della discussione le nuove frontiere della medicina, dal metodo stamina alla fecondazione eterologa, per portare un po' di ordine a un dibattito che tocca problemi etici, tecnici e soprattutto sociali. Alle 20 in Sala Valduga il dibattito La farmacia nel futuro sullo diverso ruolo che la farmacia dovrebbe avere negli anni a venire. Secondo le statistiche il 50% dei pazienti non aderisce correttamente alle terapie, come dimostrano esperienze europee la ridefinizione del ruolo delle farmacie verso un modello che unisca l'ascolto e la consulenza alla vendita dei farmaci, a positive ricadute in termini di salute per il cittadino e di risparmio nella spesa per i servizi sanitari. La settimana entrante prevede per Future Forum anche un'iniziativa speciale. Nella sedia di Friuli Future Forum inizia la proiezione su prenotazione del videodramma nei molti mondi. Fino al 14 novembre sarà possibile assistere all'opera della durata di un'ora e venticirca, destinata a un solo spettatore per volta, che propone una visione totalmente immersiva in un ambiente insonorizzato provvisto di una seduta appositamente costruita per questa particolare fruizione. Avete ascoltato Euroregione News